Questa sarà cinesca si chiude per sempre. Pino, il salumiere di Via Campagna, non l'alzerà più. Un pezzo di storia di Taranto finisce qui. Dal lontano 1968 un punto di riferimento per il rione Italia Montegranare, un'attività a conduzione familiare che si interrompe dopo 55 anni. Pino ha tre figli, sono tutti super laureati, dice, e vivono lontano. L'azienda, la salumeria, non potrà proseguire. Siamo andati a salutarlo nel suo ultimo giorno di lavoro per cogliere la profonda commozione. Lasci questa attività dopo 55 anni, una delle attività commerciali più antiche della città di Taranto. Ovviamente oggi è l'ultimo giorno, si perde un pezzo di storia di Taranto. Sì, è vero, sono molto emozionato. È difficile, però è necessario. Prima o poi dovevo smettere di lavorare perché devo dare soddisfazione anche alla famiglia. Io sono Tarantino Verace e spero di... abito anche qui vicino e sarò sempre presente a guardarmi il mio locale, la mia vita. Purtroppo io, fortunatamente, ho tre figli, però sono diventati tutti super laureati e ce n'è uno a Roma, uno a Milano e uno a Dublino. Ai mesi chiude! Grazie a tutti.